una madre, il suo cuore colmo di speranza e disperazione, mentre osserva impotente la sua amata figlia muoversi pericolosamente verso un abisso da cui potrebbe non tornare mai più. Nadia Bengala, la celebre ex Miss Italia, ospite a Verissimo, ci apre il suo cuore, rivelando il dramma che sta vivendo con la figlia Diana. Diana è stata condannata a dieci mesi di reclusione per gravi reati, un percorso che Nadia non avrebbe mai immaginato per lei. Nel raccontare la sua storia al Corriere della Sera, Nadia descrive Diana come una giovane incredibilmente sensibile e intelligente, ma anche in balia di un nemico invisibile. È la droga, dice Nadia con voce spezzata, sta trasformando la mia bambina, ogni giorno che passa. Sente che il peso di questa battaglia diventa insostenibile e la situazione sembra prendere una piega sempre più tragica. Chiede ai giudici un intervento urgente, una mano ferma che possa evitare il disastro, proponendo un ricovero coatto per la figlia, perché sa che da sola, Diana non cercherà mai aiuto. Io, da sola, ammette Nadia, con un tono di impotente determinazione, non ce la posso fare a salvarla. Ecco la cruda realtà. Senza quell'aiuto, la speranza di Nadia si infrange contro il pavimento della paura, lasciando in sospeso una sola. Inquietante domanda, riuscirà Diana a risalire dal baratro prima che sia troppo tardi? Grazie. 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 Grazie.